Ciao ragazze, ciao a tutti, benvenuti e ben ritornati sul mio canale Oggi Vlog. Sarete tutto il giorno in nostra compagnia e sabato pare ci sia una bella giornata e basta, non perdiamoci in chiacchiere e che il vlog abbia inizio. In ogni luogo è proprio lo stesso. Ecco il boccone amore, abbiamo capito che è buona. Ciao Susi! Ciao! 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 Ciao anche da parte di Giulio, vero amore? Tu sei bello strabarranzato sul passeggino. Ciao! 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 Andiamo da Susi, dai! CORRI, CORRI! Corri, corri, ometto Cosa fai? Ti stai riposando? Dai Dai, dai Su Correre Qui c'era Suzy E qui c'è Giulia Dove siamo stati? Da H&M Siamo stati da H&M perché il marito aveva bisogno di fantasmini di calzine, vero? Il papà Allora siamo andati da H&M, abbiamo comprato un po' di cosine, cioè tre cosine Vero Giulio? Sì Sì, per me e per te niente, solo per papà e per la Suzy stavolta Ciao, ciao ragazzi, ciao E come 5 minuti vi faccio vedere anche cosa ho preso Allora, da H&M C'erano veramente un sacco di prezzi bassissimi, un sacco di saldi, veramente tantissima roba Ho preso due o tre cosine, allora Ho preso questo pellicciottino felpina, vedete, per la Suzy, per questo autunno, molto carino, bianco, peloso, col coricino dorato Ho preso una 110-116 cm, 4-6 anni, la mia bimba ha 6 anni, costava 15 euro e io l'ho pagato 3,99 euro, veramente dei prezzi super bassi Non immaginavo onestamente di trovare tutta questa roba a prezzi bassi Ritornerò sicuramente in questi giorni a prendere altre cose Eravamo un po' di corsa, quindi ho preso giusto due cosine, insomma E poi è un po' stressante prendere tante cose da H&M, provare e non provare Perché bisogna mettersi i guanti, bisogna pulirsi le mani sempre Quindi è molto stressante Poi con questi guanti, queste manopoline che ti danno prima di entrare Non riesci a fare nulla, quindi è un disastro Quindi presa dal nervoso, poi alla fine ho preso queste due cose E sono uscita perché non ne potevo più Quindi immaginate l'igienizzante per le mani Queste manopoline che sono scomodissime Stare dietro a due bambini, una di 6 anni e una di 17 mesi Veramente, è da suicidio Quindi ho fatto velocissima Poi ho preso questa felpina per la Susie Guardate che carina Molto bella E devo ritornarci assolutamente Però giuro, ci ritorno da sola Senza bambini, senza marito Perché così riesco a guardare meglio Questa costava 15 euro Ho preso sempre 110-116 cm E l'ho pagata a 5,99 euro Poi La Susie ha voluto prendersi questo lucida labbra Che adesso lo proviamo assieme Lei frega sempre i rossetti a me Io frego i rossetti a lei Mi pare, giusto no? Se mi vede, mi uccide Allora, lip gloss Questo Molto carino Si vede qualcosa? È molto delicato Carino Questo l'ho pagato 2,49 euro E poi ho preso anche delle calzine Delle calze Stile fantasmino Per mio marito Ma che ha già preso Che gli servivano Quindi Sono in camera Basta Veramente Poco poco Da chem Però ci devo ritornare Assolutamente Perché ci sono certi prezzi Che wow Adesso vado a sistemare La bicicletta Mia e di Susie Perché sicuramente La Susanna Più tardi Vorrà andare a fare Un giretto in bici Quindi vado a preparare Le biciclette Adesso Giulio Sta facendo la nanna La Susie Sta facendo i compiti Quindi io ne approfitto Sistemo le bici Poi do una pulita In casa Ciao Facciamo un giretto in bici Sì Ti piace? Andiamo fino al parco Metto il motore Turbo Turbo Ciao 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 ragazze Noi facciamo un giro in bici Sei contento? Bello il giro in bici Yuppi Sono le sette Le sette di sera Direzione parco giochi Un parco giochi isolato Dove non c'è mai nessuno Quindi andiamo lì Siccome la Susie Era da un po' Che mi chiedeva Altalena e scivolo Anche se a casa Volendo Sia l'altalena Che lo scivolo Ma Voleva andare Al parco giochi Siamo arrivati Al parchetto Ma che del sabato è Vero? Stamattina una bella passeggiata Poi un giro in bici Bello eh Qui c'è la Susie Ciao Sei contenta? Sì Bene Sono le Non si vede una cippalippa C'è il riflesso 19.03 Vai amore Vai Spingi Giulio Spingi Vieni Giulio Guarda cosa c'è qui No questo giro Vieni amore Sali Ce la fai Vieni Seduto Ti allo stretto Susie Te spingi Ti aiuto a spingere Giro giro tondo Come gira Questo mondo Cos'è successo? Tutto ok? Aia 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 Alla testina Tutto ok Giulio? Sì Dici amore Vai vai così Susie Se vuole star così Vai piano però Tutto 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 Sono le 8 siamo usciti dal parchetto e adesso pedaliamo a tutto gas perché fra poco il sole andrà a nanna vero amore e se il sole va a nanna cosa succede? se il sole va a nanna qui diventa tutto buio 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 non c'è neanche un lampione non c'è niente qui la luna non so neanche dove è la luna insomma dobbiamo muoverci torniamo a casa dai muoviti Susi che tra poco diventa tutto buio il sole va a nanna sta già tramontando ma che paura del buio dai